Salve e bentrovati. Le tensioni in Ucraina non diminuiscono, ma in compenso oggi sui mercati è andata in scena una seduta abbastanza neutra, anche se va detto che alcune materie prime continuano a salire a partire dal gas, ma anche alcuni metalli preziosi come nickel, palladio, platino e vi dicendo, di cui la Russia è un importante produttore. Intanto si registra la previsione di Paolo Gentiloni, che ora è commissario europeo, che prevede un PIL in crescita del 4%. Nonostante un avvio negativo, il Futsimib si è riportato sulla parità nel primo pomeriggio, tanto da riportarsi sopra i 26.000 punti. La percentuale finale mostra un passivo che è trascurabile. Praticamente analogo il trend dell'indice DAX, che in chiusura registra invece un passivo dello 0,26%. Riapre Wall Street dopo la festività del President's Day, i Dow Jones e Nasdaq stanno accusando, ribassi compresi tra il mezzo punto e il punto percentuale, cali che sarebbero motivati, stando da alcuni analisti, dalla situazione ucraina. A Milano corre Inuit dopo il via libera ai target sulla riduzione delle emissioni. Rialza la testa di Assori in titolo che ieri aveva toccato i nuovi minimi dall'aprile del 2020. Iveco invece aveva fatto registrare proprio oggi, in apertura, i minimi della sua breve storia, avendo iniziato a quotare, lo ricordiamo, a gennaio, ma poi un rialzo ha riportato il titolo sopra agli 8 euro per azione. Continuando a parlare di minimi, anche Interpump aveva fatto registrare in apertura i livelli più bassi, in questo caso dal giugno del 2021, poi però c'è stata la risalita. Più staccato Eni, la variazione finale è del più 1,35. La flessione peggiore invece è quella di Buzzi Unicem che lascia sul campo oltre i due punti e mezzo percentuali. Altri tre titoli hanno chiuso con un passivo che va oltre il meno 2 e stiamo parlando di Saipem, di Unicredit e di A2A. La lista dei peggiori si chiude con il meno 1,82 di Banca Generali. Le valute. Dopo alcune escursioni sotto quota 1,13, lo vedete anche dal grafico qui a fianco, Eurodollaro torna nettamente sopra questa soglia. Si tratta di una giornata positiva per la moneta unica, visto che per esempio anche gli altri cross tra cui Eurosterlina ed Euroyen stanno mostrando un chiaro rialzo. Ed ora la panoramica sui future internazionali a cura di Alessandro Aldrovandi. Salve a tutti per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Alessandro Aldrovandi, trader indipendente, per vedere quello che sta succedendo sugli indici internazionali in questa giornata molto particolare. A te le previsioni. Sì, buongiorno a tutti. Partirei dal mercato italiano che poi non è molto diverso dalle tutte le principali piazze azionarie internazionali dopo quella debacle che si è vista nella giornata di ieri lunedì 21 febbraio con borse che hanno perso il 3-4% e sono stati soprattutto violati alcuni supporti molto importanti. In modo particolare per quanto riguarda l'Italia ha perso il 26.500, violato a ribasso anche il livello 26.000 e questa mattina nell'intraday ha anche tentato di rompere l'importante soglia decennale o ultradecennale del 25.500. Lì vi è stata finalmente una reazione nell'intraday che nella giornata di oggi vede le quotazioni recuperare il livello 26.000. Ecco, penso che sia questo lo spartiacque tra positività e negatività. Se chiuderà sopra il 26.000 vi è possibilità che ci sia un rimbalzo anche nelle prossime sedute, se invece non riuscirà a tenersi a galla oltre questo livello purtroppo la negatività potrebbe continuare. Ma direi comunque che il 25.500 è un supporto molto importante che ha sentito anche perché lì passa l'indicatore super trend che fa da pavimento difficile da superare al primo colpo. Quindi insomma tutto sommato per le prossime settimane c'è lateralità sul mercato e per le prossime sedute probabilità di un leggero rimbalzo. La stessa cosa vale per il mercato tedesco, per il Future Dax che proprio ieri ha abbandonato la soglia importantissima del 15.000 e sta lavorando da ieri sera a questa mattina l'importante livello 14.500, ultimo supporto da tenere prima di evitare un'ulteriore accelerazione ribassista. Qui il mercato è impostato peggio rispetto all'Italia, c'è maggiore debolezza, siamo al di sotto questa volta dell'indicatore super trend, sta tentando di risalire al momento se venisse cristallizzata la situazione attuale a fine seduta il pattern che si sta creando viene chiamato piercing line ed è un pattern di inversione rialzista che darebbe possibilità al mercato di rimbalzare nelle prossime sedute. Infine passerei al mercato americano, in modo particolare allo Standard & Poor's 500 che ieri ha violato, anche qui abbiamo dei livelli che sono molto assimilabili come il 26.000 dell'Italia, il 15.000 della Germania e qui abbiamo il 4.300. Ieri è stato violato questo importante supporto che era stato determinato da un quintipo minimo alla fine di gennaio, le quotazioni si sono estese questa notte e questa mattina fino a 4.250 ma ora stanno rimbalzando. Anche qui da monitorare con attenzione in questa giornata interlocutoria di rimbalzo se vi sarà una chiusura sopra il 4.300 oppure no. Se vi sarà sopra c'è possibilità di un ulteriore rimbalzo per le prossime sedute, altrimenti il trend ribassista in corso perché di questo si tratta e dovrebbe continuare addirittura accelerare al ribasso. Tutta questa negatività del mercato comunque è assolutamente normale perché nel mese di marzo ormai le banche centrali hanno deciso di aumentare il tasso di interesse e questo non potrà far altro che appesantire i mercati azionari e istituzionali e mani forti stanno cominciando a vendere, magari nascondendosi, magari a piccole dosi ma sicuramente stanno liquidando le loro posizioni rialziste. Grazie Alessandro per la panoramica, io ti ringrazio ancora e rimando con te, l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie Rossana ed Alessandro, come sempre vi ricordo che potete rimanere sempre informati e consultare tutti i contenuti iscrivendovi al canale YouTube di Traderlink oppure su Traderlink Web e sulla nostra app. Grazie e buona serata.